Ah! Yabbeh! Sei? Angelplaine is low! Asse. Yabbeh! Non metterla con intra. No, no, no. Fami! Ok. Ok, ok, faccio il partire. Ehi! Bello a tutti ragazzi e ragazze Sono Anime bentornati in questo nuovo episodio Della Captive E noi diciamo un nuovo episodio della Captive Perché siamo riusciti a risolvere il problema Vero Stephanie Do un pugno nelle palle Abbiamo chiamato in sostegno Indovinate chi? Il grande Vegas E abbiamo detto guarda Vegas c'è un problema Qui non si può pescare e non si può andare nel Nether Lui ha preso e ha ricostruito tutta la base da capo C'è oltre ad aver risettato il server Sì abbiamo riaggiornato il server Così adesso possiamo entrare nel portale del Nether Ci sono i mostri eccetera eccetera Poi lo vedrete E ho ammazzato un po' di come si chiamano quegli stronzi con la spada Gli stronzi buster E abbiamo fatto un nuovo gold Gold button Quello che ti danno a un milione su YouTube Ah quello che ha Fabi Jay Uno l'abbiamo rubato a lui Ma gli hai fatti scopà e non mai chiamato Eh pensavo Lo mettevo su Youporn Eh scusa non immaginavo che ti interessasse Chiedo perdono Ok Dai basta parlare Sanpei andiamo a pescare Che almeno facciamo l'obiettivo su Ma andai a pescare meglio Ho capito che vuoi il pesce ma non il mio Ci sono le bollicine guarda Stai affogando vedo Eccole eccole Non lo peschiamo secondo me Eccolo E vince step L'hai preso? Si Ma fammelo prendere Aspetta non cucinarlo ancora Invece lo cucino Ti piace il pesce? Mi lasci pescare in pace No bastardo No bastardo No La fuoco è la piscina Squadrino No scherzavo Scherzavo Ti senti salto Fermo Non fai la gara di apnea Ok Aspetta aspetta Lanci i semi in mare così Facciamo a boccare i pesci Ma non funziona così Tranquillo Sono io quello che ne sa di Minecraft La smetti Ti hai caduto da solo Non ho niente che possa buttarti nell'acqua Hai un arco Non sono un mago E ne tantomeno un arciere Ma se l'altra volta mi lanciavi gli archi Ma che pensi di parlare con Robin Hood? Qual è l'altra cosa per farla boccare? Il destra o il sinistra? Basta! Mi sono stato io Si c'è l'arco mi fai male Non ce l'ho Allora sai cosa faccio? Sul secchio d'acqua No no giuro sarò bravo Giuro Mi ha lo scuso Ma terrore Qual è l'altra destra o sinistra per raccattare? Per raccattare cosa? Per raccattare le minorenne No è il pesce Eccole là Le vedi le bolle? No Guarda più in là Oltre il recinto Non ci sono Quattro bolle all'orizzonte Vai a prendere l'altro pesce da ucciderti No mi voglio pescarlo Madonna questo Oh che ansia Io vado in minera a uccidermi Non usarne il nether Oddio ma è pieno di gente Ma tu sei giù di sotto? Oh mio dio il nether è pieno Aiuto Mi sta picchiando il gas Sono tornato amico mio E' stata un'avventura difficilissima E' come se non t'essi messo a me di sotto Eccolo Eccolo Vai Oh Merluzzo crudo Cotto e frullato Allora qui c'è l'altro No Aumenta Si L'ho cotto Si è allargato Un giorno non mi avrai più Me ne andrò di casa Ma non si è allargato? No si è aperto di mezzo Perché si apre di mezzo per volta L'altra volta era di qui nel mezzo Adesso è tutto di qua E ma allora da che parte si è allargato? Era a mezzo Era a metà di questo Poi a parole non hai guadagnato niente Ma che bug è? E' una mafia? E nulla Io direi siamo pronti per andare nel nether Quindi non si è neanche allargato da sta parte? E' uguale Tutto uguale Da tutte le parti di mezzo Ma quindi si allarga solo di un quarto o di mezzo? Di mezzo Allora se si è allargato di mezzo vuol dire che possiamo andare a prendere i diamanti sopra? Forse si Non lo so Ah vedi? Sono miei diamanti No perché scusami Dove io tanto arrivo prima di te Oh cazzo Mi è caduta l'acqua l'anima Eh cosa? È caduta l'acqua ha distrutto tutto No 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 Prendila Prendila Non c'è Lo vedi è bucchata Non so del Merda È morto Sei caduto Hai visto? Cioè che sei caduto Non perché hai ucciso io Puoi avere tutte le scuse che vuoi Ma tu sei caduto per il gioco Non risulta che ti ho ucciso io Quindi nessuno ti crederà Cioè se tu metti questa parte nel video Risulta che sei stato ucciso dalla caduta stai fottendo con il negro sbagliata vabbè ragazzi allora benvenuti in questo episodio della captive ciao capo di squadra oggi siamo qua in compagnia dell'ospite quindi oggi si andrà tutto bene e doveva partecipare anche a Anima ma Anima ha deciso di non venire Anima risponde Anima mi fa arrabbiare io mi quitto faccio vedere io dove sei Anima non fare cose sconsiderate dove stai andando senza di me nel nether sto arrivando sto moriando ma non lo faccio perché sei morto non lo so non lo so come l'altra volta eh rispondimi stai congelando l'acqua dove stai andando tu sei pazzo ti devo salvare beh gas oh dimmi veloce non funziona il nether ma non funziona il nether eh no ma come mai fa così a volte e la captive cioè il bug che sia vabbè complicato da spiegare pronto è successo abbiamo bisogno tanto aiuto ok vivo ciao ragazzi 15 minuti dopo tu pagherai un botto di pene nell'inferno forse non hai capito perché devo prendere i pene nell'inferno ci sarà ogni anello con Anima che ti frusterà giù forse c'è qualcosa cosa c'è sono caduto di sotto c'è gli scheletri del guido aiutami Anima Anima posso scendere non muoio porco giuda aiutami scendi piano piano lì tramite il giro lì vabbè ci provo sto scendendo giù un po' lento ragazzi chi va piano va sano e va lontano ok anche lui sta arrivando però ragazzi ho sentito un bambino che piange cos'è no non dirlo sento un bambino che piange oh cazzo è il ghast cos'è il ghast è l'obiettivo col ghast è tipo il lenzuolo che vola il video non finisce qua perché sono qua per dirvi una cosa importante che potrebbe farvi guadagnare dei bei premi sto parlando del sito playful bet che è un sito di scommesse ma tranquilli è tutto gratuito non dovete spendere assolutamente un euro in questo sito si possono vincere un sacco di premi come potete vedere come playstation xbox veramente ci sono dei premi veramente allettanti ricarica e paypal e addirittura per chi mi segue da fifa ci sono anche i fifa points che si possono vincere anche i giochi i riot point eccetera 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 questo sito è un po' adatto a tutti cioè anche per le persone che non sono esperte in scommesse cioè io non sono il mago delle scommesse anzi colgo l'occasione per dire alle persone che sono brave nel calcio che conoscono non solo la serie A ma anche altri campionati mi possono scrivere e seguirmi sul profilo privato mi mandano un messaggio privato e possono tranquillamente scrivere per scambiare qualche parola con loro ora vi faccio vedere come si fa una scommessa ovviamente vi consiglio di scommettere sulle squadre o sulle partite semplici anche se vincete un po' meno e ricordatevi che nel caso perdeste i coins dopo un tot di ore vi vengono gratis riaccreditati giusto per farvi vedere il meccanismo clicco su questa inizia praticamente fra 8 minuti qua dice scegliete quale volete che vinca e poi mettete che ne so tutti i coins che volete quindi che ne so mettete 4000 coins vinceremo in più 3520 coins quindi poi fate gioca ed è veramente semplice ma nel caso non voleste aspettare le squadre che giocano oppure non siete appunto non vi fidate non avete paura di scommettere perché non siete bravi potete vincere dei coins quindi per poi andare a vincere altri i premi su vinci coins qua in alto scaricando dei semplici giochi o applicazioni vi verranno accreditati appunto i coins che ci sono scritti a fianco così da accumularli accumularli sempre di più e arrivare a vincere appunto i premi ovviamente potete stare tranquilli non è un sito tuffa ed è ottimo appunto perché non dovete spendere un centesimo di tasca vostra l'ultima cosa che vi voglio dire vi lascio in descrizione il link dove potete registrarvi se vi registrare dal mio link vi daranno mille crediti extra in più tra l'altro vi potete registrare anche col vostro profilo Facebook o Google così non dovete neanche mettere sempre password o cose con questo vi saluto decorare di commentare lasciare un mi piace ci si becca domani con un nuovo video stay angry stay angry ciao